Da piccolo preferisco il blu, adesso sono passato al rosso perché sono sempre più deterministico e più deciso e ritengo che il colore rosso rappresenti l'energia, la voglia di fare, la voglia di inventare, dinamismo e quindi questo è il colore che ho deciso di scegliere. Il colore per me è fondamentale, la materia, perché è quell'elemento che costituiscono noi con il progetto, con la sua concretezza e sono sempre attratto da questo lavoro sui materiali, sui fritture, sui cromatismi e quindi l'idea di questa mostra non poteva non contenere questa indagine con noi che troviamo un rapporto ormai consolidato da tempo e mi piaceva in questa occasione saldare i nuovi riferimenti, l'arte e il design, come vorremmo gli riferimenti fondamentali di questo motivo.